Cari amici, grazie per avermi ospitato nella vostra page. Sono Antonio Costa Barbè di Novara, oggi e da molti anni avvocato, ma da sempre appassionato musico, musicista e protagonista di alcuni momenti novaresi e piemontesi tra i più belli della scena del rock degli anni fine anni 60, primi anni 70. Mentre infatti potevo godermi dal vivo assieme ad altri amici della mia età i gruppi che allora arrivavano da noi, Gentle Giant, Getrotal, Led Zeppelin, l'unica volta che sono venuti al Vigorelli, Deep Purple e tanti altri, anche minori, Emerson, Lake & Parnell e così via. Bene, in quegli anni mi nasceva un profondo desiderio di portare per la prima volta in Italia sui palcoscenici del teatro Coccia di Novara un'opera rock che da allora è diventata immortale. Mi riferisco a Jesus Christ Superstar che nel 1975, il 10 marzo, venne rappresentata per la prima volta in Italia, in lingua inglese, dai singoli steli d'erba. Così ci chiamammo allora, dopo otto mesi di prove, riuscimo a realizzare questa rock opera che da quel momento è diventata patrimonio di molte compagnie musicali, teatrali, amatoriali e non. E dopo 40 anni l'idea di poter vedere Ted Neely a Roma, al Teatro Sistina, ancora nel suo ruolo di Gesù e di poterlo conoscere e abbracciare è stata per me una cosa indimenticabile, un momento che non scorderò, come si suol dire, anche perché, forse non ve l'ho detto, ma indegnamente in quegli anni ricoprì il ruolo di primo Jesus italiano. Quindi per qualche tempo portammo avanti la nostra rock opera nel 1975, successivamente, eravamo molto giovani, allora ci sciogliemmo, ognuno prese strade diverse, ci siamo poi ritrovati con altri membri di diversa età nella compagnia La Goccia che tuttora calca le scene per beneficenza e in questa compagnia il mio ruolo oggi, più maturato, è diventato quello di Ponzio Pilato. Ebbene, ho raccontato questo perché, a parte il grandioso incontro con Ted Neely avvenuto il 27 aprile del 2014 al Teatro Sistina, con amici, c'è stato anche un altro incontro, tre settimane dopo, che mi ha lasciato veramente meravigliato e lieto. Salendo su un traghetto per andare all'iscafo, sempre un traghetto è, per recarmi con mia moglie per qualche giorno a Ischia, ho ascoltato dietro di me alcuni ragazzi che parlavano un napoletano piuttosto stretto, io lo conosco un po' perché l'ho imparato sulle canzoni di Renato Carosone. Ma incredibilmente una frase mi ha colpito, was the bus, non era napoletano, era inglese ed era naturalmente un momento chiave di uno dei brani più noti di Jesus Christ. Mi volto, vedo un ragazzo capelli lunghi, giovane, altri, una ragazza e un altro ragazzo accanto, lui con la maglietta dell'effigio, con l'effigio di Jesus Christ Superstar e allora faccio la ferale domanda, protagonisti o spettatori? E loro mi dicono, spettatori, torniamo dal Sistine, abbiamo visto Jesus Christ con Ted Neely e io dissi, anche io. E poi tirai fuori un biglietto da visita, probabilmente è stato un po' scioccante questo, con il mio nome e cognome, la mia professione di avvocato e mentre facevamo il viaggio dissi loro non abbiate paura e raccontai che appunto oltre 40 anni fa mi era toccato in sorte di essere il primo Jesus italiano. Questa cosa è talmente incredibile, talmente bella che mi ha spinto a fare amicizia con loro, che so che stanno allestendo una nuova versione di Jesus Christ Superstar che sarà riproposta adesso tra pochi giorni a Procida per tre sere di fila consecutive e con molto piacere ho accettato l'invito di essere presente alla prima assoluta che si terrà domenica 17 di agosto. Spero di non avervi annoiato, altri aneddoti, altre storie potrei raccontarvi ma lo faremo magari in un altro momento. Grazie a tutti e hold on Jesus Christ Superstar.